Conosce anche le mezze misure il Sutirol, in vero suo malgrado. Dopo tre vittorie e due sconfitte i biancorossi conseguono infatti il loro primo pariggio stagionale, impattando a reti bianche al Druso contro il Feral Pissalò. Ma è un pariggio che sta obiettivamente stretto alla squadra di Stroppa. In un pomeriggio soleggiato con temperatura primaverile inizio di match di marca ospite col Feral Pissalò tonico e aggressivo che pressa alto e costringe il Sutirol a tenere basso il baricentro di squadra. Ma è della formazione di Stroppa il primo a fondo su lancio in verticale di Mladen che Tulli prolunga per tight, il quale intelligentemente restituisce Pallatulli, il cui destro viene respinto da Leonarduzzi nell'area piccola. Feralpi più manovriero, il Sutirol agisce invece prevalentemente di rimessa, rischiando però qualcosa al tredicesimo quando Romero vince il duello di forza con Bassoli per poi effettuare un traversone, respinto ma non allontanato da Tagliani, col successivo tiro cross di Tortori, che si perde fortunatamente nel vuoto. Il Sutirol prova a guadagnare metri di campo e al ventiduesimo tight recupera un pallone poi lo ceda Bertoni, sul cui lancio in verticale Maritato vince il duello in velocità con Leonarduzzi, ma Caglioni in uscita fa muro sull'attaccante calabrese. Insistono i biancorossi al ventiseiesimo dopo bel fraseggio sulla trequarti Bertoni libera i ventimetri Fink, il cui tiro mancino è però centrale, facile e preda di Caglioni. Poi la partita attraversa una fase di stallo ravvivandosi al quarantesimo quando tight aziona la percussione centrale di Capitan Fink, che poi lascia palla in area Crovetto, il cui piazzato di sinistro viene respinto da Caglioni. Sul corner seguente cross di Crovetto con Maritato che da due passi, schiaccia il pallone di testa ma lo stesso sorvola la traversa. Altro giro di lancetta e l'ottimo Crovetto spalanca la porta Tulli, il cui destro è però debole centrale. Sul ribaltamento di fronte Bracaletti si incune in area di rigore biancorossa rientrando sul sinistro, impegnando severamente i miori. Finale di primo tempo vivacissimo, ma squadra è negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Si riparte senza cambi in entrambe le squadre con un brivido per il suitero su angolo di Bertolucci e colpo di testa di Rannellucci, che sorvola la traversa. Scampato il pericolo, la squadra di Stroppa torna a spingersi in avanti con continuità e al nono ci prova Bertoni dalla distanza, costringendo Caglioni alla respinta di Pugni. Spinge forte il suitero al malventese, una palla mal gestita da tight innesca il contropiede ospite con Settembrini che imbuca un gran pallone in area per Bracaletti, il cui tiro viene respinto da Miori, poi la difesa biancorossa fa muro su Maracchi. Ma è un episodio isolato perché poi il suitero torna a riversarsi in avanti con Mr. Stroppa che le prova tutte, inserendo anche gli ozzi, la terza punta. È un tentativo che risulta però vano. Aldruso finisce 0-0 e per il suitero è il primo parigio in campionato dopo tre vittorie e due sconfitte. Grazie. 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 Grazie.